Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano, in edicola e online lapadania.net Quello che è successo ha dell'incredibile, un ministro che ha dei contatti così stretti e fa delle telefonate e si mette a disposizione della famiglia Ligresti, veramente in qualsiasi altro stato europeo straniero si sarebbe già dimessa. Purtroppo l'Italia non è così. Noi voteremo a favore della mozione di sfiducia. Siamo in attesa che il ministro Cancellieri, con un atto di responsabilità nei confronti delle istituzioni, ci auguriamo che possa rassegnare le dimissioni rispetto ai fatti che l'hanno chiamata in causa. Il 5 di novembre la Lega cosa chiedeva? La Lega chiedeva di chiarire questo intreccio, anzi chiedeva al ministro di fugare ogni dubbio, ogni legittimo sospetto. Chiedevamo di chiarire la commissione tra il ruolo pubblico e la funzione pubblica del ministro rispetto alla sua sfera privata, di chiarire la telefonata del 17 di luglio avuta con la compagna Ligresti, telefonata grave, telefonata inopportuna, telefonata rispetto alla quale anche il ministro stesso si è scusata rispetto all'aula. Non ho mentito neppure sulla mia amicizia con uno dei membri della famiglia Ligresti, Antonino. Siamo amici da molti anni, è amico di mio marito, ci vediamo e ci sentiamo spesso al telefono. Il fatto che vi siano dei contatti è dovuto a questo. Sulla vicenda a cancellieri da un lato e sul dibattito all'interno del PD dall'altro lato si è consumata una delle pagine più vergognosi, tristi e buie della storia della Repubblica di questo paese. Il ministro ha fatto un qualcosa che come figura istituzionale non doveva assolutamente fare. Adesso sono stati aperti anche dei fascicoli, non si sa come procederà, però dei dubbi sulla correttezza di un ministro devono indurla necessariamente a presentare dimissioni. Mi chiedo e vi chiedo cosa sarebbe successo se su quella poltrona e in questo contesto ci fosse stato un ministro della Lega. Sarebbe stato linciato e sarebbe stato costretto alle dimissioni a forze. Dov'è? Che fine ha fatto la mozione di sfiducia di Pippo Civati? Che fine ha fatto questa mozione annunciata, propagandata su ogni televisione e su ogni tv unicamente per recuperare qualche voto tra gli iscritti del PD e poi repentinamente accantonata e cestinata. Pippo Civati che non è neanche presente oggi al dibattito in aula. Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online lapadania.net